ciao a tutti ragazzi come potete notare non sono più in centro a brisbane mi sono spostata di un po di chilometri a sud della città appunto e sono a surfers paradise vi faccio vedere dietro di me l'oceano purtroppo il tempo non è dei migliori adesso sta un pochino migliorando perché sta uscendo il sole ma tipo stamattina pioveva quindi fa ancora un po fresco nonostante comunque appunto stia uscendo il sole io in realtà sono qui diciamo l'ho presa come tappa intermedia nel mio rito durante il mio ritorno a sydney per il semplicissimo fatto che qui a surfers paradise c'è l'arroccafè e chi mi conosce sa che ho un grande amore per le magliette dell'arroccafè quindi era una visita una tappa qui a surfers paradise era obbligatoria e adesso visto che comunque sta uscendo un po di sole probabilmente farò un piccolo giro per appunto la città e mi porto con me poi mi rilasso un pochino in spiaggia nella speranza che il sole non se ne vada nel frattempo ciao 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 io spero che il video vi sia piaciuto adesso il sole sta tramontando e comincia a fare un po' freddino per me visto che sono in maglietta e pantaloncini Alla fine non è niente di che Surfer's Paradise, appunto io mi sono fermata qui perché c'è l'Ardero Cafè Tutto il turismo si incentra sulla spiaggia e sul surf Oggi purtroppo c'è un tempo un po' schifoso, c'è vento, spero che mi sentiate C'è appunto c'è vento, c'è stato nuvolo tutto il giorno, la mattina quando sono arrivata pioveva, eccetera Io spero comunque che il video vi sia piaciuto, spero che vi iscriviate se non lo siete ancora Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare vi ricordo Facebook, Instagram e Twitter Lasciate un like se il punto del video vi è piaciuto, potete anche condividerlo con i vostri amici, sugli altri social E potete anche commentare se avete qualche curiosità relativa all'Australia, al Surfer's Paradise, eccetera Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!